Stiamo girando in lungo e in largo il collegio per portare la voce del centro-sinistra del Partito Democratico nelle case e nei luoghi pubblici. Cerchiamo semplicemente di rappresentare il messaggio di competenza, di radicamento territoriale e di professionalità. Come sa, io sto girando tutti i comuni perché penso che insieme alle amministrazioni locali vada costruito proprio il programma di mandato per il Senato, nel mio caso, per la Camera per quanto riguarda Anna Maria. Quindi siamo molto carichi per il raggiungimento dell'obiettivo. Farò l'apertura della campagna elettorale, sarà programmata adesso per me sabato alle ore 18 al Golden Tulp, quindi invito tutti quanti a essere lì perché sarà una grande festa di politica e di amicizia.